Domenico Laurendi, consigliere nazionale dell'Ordine Nazionale dei Biologi, oggi a Reggio Calabria un appuntamento importante per la città. Biologi e avvocati si incontrano nuovamente sul tema della giustizia, in particolare sul tema delle scienze forensi, la scienza, la biologia applicata alla ricerca della verità. Abbiamo iniziato questo percorso il giugno scorso col primo convegno nazionale dell'Ordine Nazionale dei Biologi, il primo nel meridione. Sulla biologia forense. Oggi ci siamo ripetuti in questo nuovo simposio, proprio per rinnovare il connubio tra l'Ordine dei Biologi e l'Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria. Proprio per dare risalto alla sinergia che si crea tra due ordini che molto spesso sembrano apparentemente così lontani, distanti, ma che lavorano in sinergia proprio per la ricerca della verità giuridica. Le scienze forensi sono una reale nuova opportunità di lavoro. Io spero che il Sud Italia sia onorato e che abbia dei riscontri positivi in termini anche occupazionali. L'Ordine Nazionale ha fatto tanto per questa disciplina. Ha istituito a Roma, a Tor Vergata, la prima scuola di genetica forense. Ha sede a Tor Vergata a Roma. Il professore Giardina è il direttore scientifico di tutta la scuola permanente. I biologi che lavorano in questo comparto, in questa disciplina, possono trovare momenti di incontro e di aggiornamento. Inoltre i nuovi biologi, per chi si sta avvicinando a questa parte della biologia, potranno avere una formazione di altissimo livello, come impone questa disciplina. Perché solo con un grandissimo rigore scientifico e con una serie di accorgimenti, perché vi sono delle procedure ben precise, al fine che le prove possano essere prese in esame durante le fasi processuali.